Ma io non ci posso pensare, questo è una scena pazza Sono tre ore che ci sto pensando in la cucina e nemmeno che voi siete stati capace e mi chiamano zelata zelata a me Ebbene adesso c'è una cosa, ebbene che lo chiariamo una volta e per sempre Io, me lavo eccezionalmente, mi tengo un programma di lavaggio settimanale Ecco si, la lavatrice La lavatrice, e che ne faccio? Il mio è un programma di lavaggio personale Dunque, il lunedì mi lavo i capelli Il martedì mi lavo le orecchie Il mercoledì mi lavo la boccuccia Il giovedì mi lavo sotto le ascelle Il venerdì mi lavo la panzella O sabato mi lavo le piede E allora non vedo! Cagnola!